Ciao mondo! Oggi sono tornata con un nuovo video, mi vedete gialla, struccata e in bagno perché mi è venuta in mente una tipologia di video tipo mi ristrutturo con voi praticamente perché io faccio tantissime cose prima di truccarmi come ne soltanto mi preparo con voi soprattutto nel weekend, tipo maschere, questo, quel altro quindi visto che stasera vado a mangiare e a ballare fuori da questo stato pietoso dovrei essere presentabile dovrò diventare presentabile quindi iniziamo subito e praticamente ho un'ora e mezza per farlo però ce la faremo, spero comunque let's go! but I, I, I don't care but I, 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 I Grazie a tutti Her looks, I assume they come with a price She's smiling, but that may just be a disguise I wanna say hi, but I'm scared she'll kill me Could we, will we, would she, probably not But I, I don't care Cause I know it's so rare But you got me to get a chance With a girl like her And I won't waste that chance Waste that chance Waste that chance Waste that chance She got me low Yeah She got me like We fell out of love like shooting stars Came crashing down And we're building back up again Now I see your heart, see your mind, see all you hide I won't let you go Can't let this fly When you lose yourself, I'll be right beside you I see your heart, see your mind, see all you hide I won't let you go I won't let this fly When you lose yourself, I'll be right beside you I see your heart, see your mind, see your mind, see all you hide I won't let you go I won't let this fly When you lose yourself, I'll be right beside you I see your heart, see your mind, see all you hide I won't let you go Quindi questo è il look finito Io sono super contro luce Spero vediate qualcosa Io spero che questo mi restauro con voi Vi sia piaciuto Quindi lasciate un bel pollicione in su E iscrivetevi al canale per non perdere i nuovi video Soprattutto scrivetemi nei commenti Se vi è piaciuto il video Che consigli mi dareste Se farlo in bagno o farlo da altre parti Io vi ricordo che giù in Infomax Ci sono tutti 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 i miei social network Dove potete cercarmi con Giorgio Makeup Oppure direttamente il link in descrizione Io vi ringrazio tantissimo per la visualizzazione Vi mando un bacione Ciao Sono super irritato Strano Ciao